Abbiamo in uscita la Grimaldi Lines Eurocargo Istanbul Voglio rileggere il fondo Eurocargo Valletta Vista E' un bel movimento ai porto Quella entra, l'altra esce, l'altra ai passeggeri Questa fa carico e scarico merci Voglio fare una zoomata comunque su questa Favolosa nave bianca Che è ferma alla fonda Non ha nessun motore in moto Non lo si vede da nessuna parte E' in attesa Salve errori c'è altri colori Quindi dovrebbe essere italiano Let's go E' in attesa Perché io vengo da nessuno Che è un po' di nessun video E' in attesa E' in attesa E' in attesa